Terefi, buono Natale! Pensa, ho neanche un bambiniello, fatto insomma, e tale quale con malata, russicilla, con un po' scellerata, senza far male a nessuno, seguitata e maltrattata, in grucia, ho neanche gli afferni. Questo esempio che ti porto, Terefi, tiene la mente, che pure, innocentemente, chissà come già morì. Non vuoi sentire questa voce, che ha pietà, pietà, cerca, e mi stai mettendo in grucia, come il povero Gesù. Ma io non sono fatto e impastato questa pasta, ma non ce l'ho. Questo sempre si è aludato, questo nasce ogni anno, io no. Grazie a tutti.